A pescare il movimento politico Pettinari per l'Abruzzo è pronto a depositare un'istanza di questione pregiudiziale per ritirare la delibera per la realizzazione di nuove strutture sportive a Collebreccia. Il progetto non convince neppure i residenti della zona, che si sono ritrovati in piazza Marino di Resta con i consiglieri comunali Caterina Artese, Massimiliano Di Pillo e Domenico Pettinari per denunciare un'opera che approderà la prossima settimana in consiglio comunale con una delibera di variante. A spiegare il perché dei molti dubbi che solleva il progetto è Caterina Artese. Non ci piace il fatto che verrà trasformato un luogo ad uso pubblico in un luogo privato. Non ci piace il fatto che l'urbanizzazione di questo ambiente, che come potete vedere è nuovo, verrà di fatto aumentata. Per cui nel prossimo consiglio comunale, che si terrà il 2 dicembre, si porterà questo progetto in sanatoria perché è presente delle irregolarità rispetto al piano regolatore, anche rispetto a delle norme nazionali. Di fatto qui noi adesso abbiamo un ambiente da un punto di vista paesaggistico urbano abbastanza equilibrato e anche da un punto di vista sociale perché questo polo polifunzionale sportivo in realtà risponde alle finalità ricreative che sono tipiche di aree pubbliche. Invece in un secondo momento diventerà un'area privata ad uso produttivo. I campi da paddle dovranno funzionare per 4 ore al giorno, i 6 campi da paddle. Ci sarà un ristorante, aumenterà il consumo di suolo, ci sarà un'altezza di 12 metri, quindi di fatto qui il paesaggio cambia, abbiamo come un altro palazzo. E tutto l'aspetto urbano del territorio, la vivibilità di quest'ambiente verrà modificato in senso peggiorativo. Non capiamo perché il comune voglia fare un'operazione di questo tipo. Mancheranno anche parcheggi per fare tutto questo? Sì, mancheranno anche parcheggi, tant'è che anche per questo vanno interroga, vanno interroga per il consumo di suolo, per le altezze e per i parcheggi. Aumenta il consumo di suolo, mentre in questo momento noi abbiamo una casetta che è adibita a spogliatoio pubblico, poi di fatto diventerà un ristorante, per cui adesso questa occupa una superficie del 5%, poi aumenterà fino al massimo possibile per attività sportive, ma di fatto ci sono delle sentenze di cassazione che equiparano i campi di paddle con le coperture fisse a delle nuove costruzioni. Ennio Martelli, lei è il portavoce in questo caso dei cittadini che sono dubbiosi, diciamo così, su questo progetto, perché cos'è che non vi convince? Allora, quello che a noi non piace è l'impatto ambientale, l'impatto acustico, i parcheggi, la viabilità e anche, diciamo, vedere questi enormi palloni che è un obbrobrio per quanto riguarda il quartiere, che è pieno di verde, quindi riempirlo con questi palloni, io credo che sia proprio un degrado, un obbrobrio proprio, una cosa bruttissima, è una cosa che noi non vogliamo, ci siamo opposti e ci opporremo fino alla fine.